Nel PD pugliese caccia i traditori in vista della compilazione della lista per le regionali. Il partito ha congelato gli elenchi in attesa di stanare i franchi tiratori del pacchetto donne affossato nell'ambito della legge elettorale. La segreteria ha chiesto il verbale della seduta per risalire i nomi. Emiliano conferma di non ricandidare chi ha votato contro la parità di genere. Aspettando il riscontro, paragonabile alla ricerca di un ago nel pagliaio, è ripartito il toto candidati. Tra i volti nuovi c'è il prefetto di Bari Nunziante, prossimo ad aprile alla pensione. Giusto in tempo, dicono i ben informati, percorrere in una delle due liste civiche collegate al segretario PD. Clamoroso sarebbe il ritorno circolato in queste ore di Elena Gentile. L'eurodeputata a nostalgia della Puglia e potrebbe tornarci grazie alle regionali. Se andrà così, le spetta di diritto uno dei sei posti di capolista riservati alle donne del partito. Un risarcimento promesso da Emiliano dopo lo schiaffo sulle pari opportunità. Nelle altre province circolano i nomi di Lemma, su Taranto, Vincenti e Brindisi, Capone e Lecce. In casa Selle, invece, si attende la fusione con la Puglia in più del senatore Stefano. Nel listone unico finiranno tra i big il professor Tommaso Fiore ed una folta pattuglia di uscenti. Tra gli altri gli assessori Caroli e Nardoni. Lo Nigro e la Domada per i consiglieri. Fuori dal giro resteranno il capogruppo Lo Sappio e Angelo Di Sabato.